Grazie Presidente Romano, grazie Presidente Caldoro. Io davvero, ascoltando la sua relazione, sono convinto che siamo tutti in un altro mondo. È una relazione apparsa a me, che ho ascoltato con interesse, con attenzione, a tratti lunare. Ricordo a me stesso e a noi che stiamo discutendo della Campania, di una delle più grandi comunità del Mezzogiorno, di una comunità di 6 milioni di uomini e di donne, e lo stiamo facendo stasera per volontà, per richiesta, per iniziativa del Partito Democratico. Non le sfuggirà che nei mesi passati abbiamo chiesto con forza, con insistenza, che si tenesse una seduta del Consiglio regionale su una delle principali vicende politiche, economiche e finanziarie della nostra Regione. La prima richiesta l'abbiamo avanzata nel marzo scorso, sono passati da quella richiesta ad oggi sette mesi, nei quali la condizione di vita, di vita sociale, di vita economica di questa Regione si è notevolmente complicata. Quindi noi la riteniamo una discussione importante, ne diamo un grande valore. Vorremmo che dopo questa seduta il mondo produttivo, economico, le famiglie della Campania fossero un po' più rassicurate, un po' più rasserenate dagli indirizzi, dall'iniziativa del Governo regionale, e andassimo un po' oltre l'enunciazione dei problemi, ma entrassimo un po' più del merito delle cose che accadranno a partire da domani mattina. E quindi una discussione importante, per la quale mi auguro si mantenga la stessa tensione, lo stesso tono fino alla fine, sapendo che per noi è una discussione insufficiente, non si può chiudere qui e stasera, in poco più di tre ore, una discussione che anche lei ha ritenuto fondamentale e importante per il futuro della nostra Regione, anzi io penso che il Consiglio regionale debba tematizzare e calendarizzare nelle prossime settimane, su ognuno dei punti della sua relazione, ovvero su ognuna delle questioni che sono dinanzi a noi, approfondimenti con lei, con gli uffici, con le competenze, con la burocrazia regionale, per fare un punto un po' più preciso delle cose che lei ci ha annunciato stasera. Abbiamo il dovere di farlo per le condizioni di salute della nostra Regione, preoccupati per gli effetti di una crisi che avanza, che continua a mordere famiglie e imprese e dal nostro punto di vista per i ritardi che il suo governo regionale ha accumulato in questi 30 mesi e per la precarietà dell'iniziativa politica e dell'autorevolezza del suo governo. Abbiamo una preoccupazione che ci viene confermata sullo stato di salute della Regione da Svimez qualche giorno fa. Lei ha citato alcuni dati e alcuni altri che sono addirittura stati oggetto di una discussione nazionale e le ha completamente rimorsi. Svimez ha detto la settimana scorsa, tra l'altro aggiungendo la sua lettura a quella che nei mesi passati aveva fatto Banca Italia e ancora altri istituti economici e di statistica del nostro Paese, l'Istat, ha assegnato alla Campania il titolo di Regione più povera d'Italia, dove il prodotto interno lordo è il più basso del nostro Paese. Il prodotto interno lordo è il più basso, propensione al consumo delle nostre famiglie più basso in Italia, la disoccupazione più alta in Italia, il tasso di incidenza nella disoccupazione giovanile e femminile più alta d'Italia e nel mezzogiorno, la riduzione dell'accesso al credito da parte delle nostre imprese e perché le imprese chiudono, l'indibitiamento delle nostre famiglie che avanzano. Questo è un quadro per noi importante, per una forza di opposizione che guarda con attenzione all'iniziativa del Governo, ma guarda soprattutto agli interessi della comunità regionale. Quindi dati oggettivi che io aggiungo, mi permetto di integrare alle cose che hanno introdotto questa seduta, per noi motivo di riflessione e di preoccupazione ulteriore, è che secondo me dovrebbero, e secondo noi, secondo il PD, dovrebbero indurre chi ha avuto la responsabilità di Governo in Campania negli ultimi 30 mesi ad un atteggiamento di maggiore cautela e sobrietà, anche nei linguaggi, anche negli annunci, mettendo un po' da parte annunci e slogan, imprese mirabilanti, risultati inediti di performance che non hanno precedenti. Perché il contraltare alle cose che lei ha detto è esattamente la disperazione che è fuori dalle porte di questo palazzo. La verità è che da 30 mesi non apriamo un cantiere in Campania. I pochi tagli di nastro che lei ha fatto sono quelli frutto di una vecchia programmazione con opere pubbliche, grandi infrastrutture che sono state premiate a livello nazionale ed internazionale. Ora, anche qui, sempre per leggere cifre, lei ha fatto riferimento nello specifico a quelle fornite dalla ragioneria dello Stato, dal BALMEF qualche giorno fa, che riguardano il monitoraggio degli interventi comunitari nella programmazione 2007-2013 per quanto riguarda l'obiettivo convergenza, e al 30 giugno noi siamo ultimi nella spesa dei fondi strutturali. Noi non stiamo partecipando, Presidente, a un campionato nel quale tutto sommato ci interessa rimanere in gara, per cui siamo qualche punticino prossimi alla Via Silicata e alla Sicilia, sì certo la Puglia e la Calabria stanno meglio di noi, ma insomma ci siamo. Ci siamo nel peggiore dei modi e ci siamo per ultimi nella spesa sul Fondo Sociale Europeo con pagamenti fermi al 16,7% e per il 14,42% sul Fondo Europeo per lo sviluppo regionale. Questo nel mentre, come lei ci ha ricordato oggi sui quotidiani napoletani, le imprese rischiano di avere come unico supporto economico alla propria disperazione soltanto la quota di ossigeno economica che possono mettere a disposizione le organizzazioni criminali di questa regione. Quindi noi abbiamo un dovere in più, oltre che radiografare la realtà, la politica e soprattutto che a funzione di governo ha il dovere di provare a modificare la vita, la qualità della vita, la qualità dei servizi, a mettere in sicurezza il futuro di una regione e non soltanto a limitarsi, a testimoniare quello che intorno a noi sta accadendo e sta accadendo da anni. Ora, noi dobbiamo fare un secondo punto di chiarezza. Siamo fanalino di coda tra le regioni italiane e se ci muoviamo in campo europeo, visto che lei spesso ci esorta a ragionare anche in una nuova dimensione internazionale, come è giusto che si rapporti tutta la politica italiana, noi siamo penultimi tra le regioni in campo europeo. fanno peggio di noi in Europa soltanto la Romania, siamo un po' più avanti della Bulgaria. E mentre le regioni in giro per l'Europa, le regioni più virtuose, hanno una capacità di spesa certificata tra il 40 e il 45% e quelle in difficoltà tra il 25 e il 30%, noi ci attestiamo alle cifre che ho detto prima. Quindi dati del Ministero, e quindi non studi di parte pagati dall'opposizione, che confermano come si sia progressivamente indebolita in modo particolare negli ultimi 30 mesi, ovvero dall'inizio della sua legislatura, la nostra capacità di programmazione e poi soprattutto la nostra capacità di spesa. Il tema per noi non sarà soltanto nei prossimi mesi bloccare la spesa, ma fare arrivare quelle risorse nelle tasche dei campani del nostro sistema produttivo e del nostro sistema economico. A noi non ci interessa partecipare a un'operazione contabile che non produce ricchezza e sviluppo in questa regione. Questo è il punto sul quale vorremmo che ci fosse uno sforzo in più, anche sul terreno dell'autocritica, che male non fa Presidente Caldoro di tanto in tanto rileggere la storia passata e recente, ma soprattutto per dare un elemento di sicurezza in più alle nostre imprese a partire da domani mattina, a meno che non ritenga assolutamente sufficiente e tranquillizzante la relazione che ha offerto al Consiglio regionale della Campania. Quindi dati, numeri Presidente di cui avremmo voluto discutere già nei due anni precedenti. Per la prima volta il Consiglio regionale della Campania, dopo 30 mesi al suo insediamento, discute un attimo, un attimo del destino di 8 miliardi di euro della regione Campania. È un appello che faccio anche ai colleghi della maggioranza. Noi abbiamo il tema di riapprovarci di una funzione, delle prerogative di questa Aula e anche della qualità della nostra discussione. E' una discussione, lo ricordo a me stesso che sono tra l'altro componente della Commissione Bilancio, spessa resa impossibile ed un confronto spesso reso impossibile addirittura per l'atteggiamento sprezzante degli uffici regionali, ovvero del Capo della Programmazione Unitaria, a voler riferire in sede di audizione presso la seconda Commissione Bilancio, soprattutto nelle fasi prossime all'approvazione degli esercizi finanziari che sono alle nostre spalle. Le risparmio, potrà documentare meglio il Presidente Grimaldi, le convocazioni, le sedute e le cancellazioni delle stesse per fare il punto con le forze politiche che siedono in quest'Aula e che ci piacciono a espressione della volontà popolare e il punto con chi ha l'attenzione amministrativa di questi processi. Quindi arriviamo in ritardo ma vogliamo comunque provare a utilizzare bene questi pochi minuti di questa prima seduta del Consiglio regionale della Campania sui fondi strutturali. Io le ribadisco la necessità di calendarizzare riunioni successive per fare il punto della situazione e per monitorare i programmi nel loro svolgimento futuro. Noi avremmo voluto fare a meno di discussioni sulla stampa, ma poi ciascuno deve anche un po' difendere il proprio pensiero, le proprie valutazioni. Quindi ci siamo limitati a una discussione a volte molto molto parziale sugli organi di stampa nei mesi precedenti, ma immaginiamo che questa seduta possa aiutare a ripristinare un minimo di verità. Io mi auguro che soprattutto gli amici della stampa che seguono queste nostre discussioni abbiano la pazienza di seguire l'insieme del dibattito di quest'Aula per coglierne la qualità della discussione e anche i punti di divergenza e di differenziazione che in quest'Aula esistono. Quindi oggi siamo di fronte a un quadro notevolmente peggiorato. E le aggiungo di più, l'emergenza campana e l'emergenza campania è ormai diventata emergenza nazionale e italiana. Perché i prossimi riparti, quando si riunirà a fine novembre il Consiglio d'Europa, da Bruxelles verso gli Stati membri saranno sempre di più, per sollecitazioni dei Paesi più virtuosi sulla capacità effettiva di spesa e non sulla spesa programmata. E noi rischiamo per i conti assolutamente in ritardo della regione campania di pesare non soltanto sul futuro di questa comunità regionale, ma di pesare sull'intero sistema italiano. Quindi abbiamo una responsabilità che va di gran lunga anche oltre i nostri confini regionali e ecco perché meriterebbero meno entusiasmo, meno autocelebrazioni, sì la giusta dote di ottimismo ma anche il senso di una concretezza delle cose che dobbiamo fare da domani e cancellare e correggere le cose, Presidente Caldoro, che fino ad oggi non hanno funzionato perché se non eravamo in questa condizione ultimi in Italia e penultimi in Europa. Io credo che il sistema industriale, produttivo, economico, il sistema delle autonomie locali ricorderà per molto tempo come sia stata sciagurata la scelta di bloccare tutte le attività di programmazione dei fondi europei, comprese quelle che erano in fase di progettazione avanzata con le delibere del suo governo tra luglio e agosto 2010. Una scelta che si è rivelata nefasta per la Campania. Tra l'altro anche qui, io spero che leggiamo sempre le stesse tabelle, non so lei quale provider ha per i suoi collegamenti internet, ma sul sito della regione Campania basta guardare alla voce soggetti beneficiari del FESDRA e ci accorgiamo che ci sono dei 3.800 progetti che esistono lì, che sono l'asse, la forza, l'ossatura di quel porro sul FESDRA, allo stato attuale ne abbiamo pagato per spesa certificata e pagata per poco più di 600 milioni di euro. Non è tutto tema di sforamento di patto di stabilità, non è solo difficoltà delle procedure sicuramente molto rigide, molto stringenti della comunità europea ci sono oggi, le assicuro che c'erano anche prima, quando ci sono stati risultati migliori e premialità per ogni anno di spesa dei fondi strutturali negli anni precedenti. Ma insomma c'è un tema che riguarda la qualità della programmazione, c'è un tema enorme che riguarda il modello di governanza della Campania. Io non so se questa struttura della programmazione unitaria di cui si è dotato. Quanto riuscirà ad integrarsi con un'altra struttura di cui si è dotato recentemente e ancora, come dire, non nella vita dell'ordinamento nuovo della regione Campania, i capi di partimento. Ma io credo che se vediamo quante firme, quanti timbri e quanti passaggi di carte, di stanza in stanza, di piano in piano, ha ogni singolo progetto prima di arrivare alla liquidazione, io credo che lei si sta caricando la responsabilità della presunzione di un controllo che è semplicemente accentramento di un potere e di una funzione che sta svilendo completamente la possibilità di rimettere in piedi e in movimento la nostra regione. Tra l'altro, anche qui, un pezzo rilevante del FERS sono i grandi progetti, anche qui la mistica dei grandi progetti. Quelli ci sono serviti a bloccare la spesa, ma il tema per alcuni di quelli che sono partiti nel 2009, sono stati approvati nel 2009, penso al Parco Urbano ai Bagnoli, o alla Metropolitana Linea 1 nel 2010, o alla Metropolitana Piscino a Capodichino nel 2010, o alla Statale 268 del Vesuvio nel 2011. Parliamo di progetti, sempre per rimettere insieme memoria e funzioni, figlie della programmazione della precedente amministrazione, che ad oggi non mettono un chiodo a terra. Ma siamo, basta guardare le ultime sue delibere, ancora a protocolli d'intesa, che riviviano a successivi accordi di programma, che mettono su cabine, strutture, sovrastrutture, con un tecnicismo che non produce un passo in avanti neanche sui 4-5 grandi progetti approvati ormai circa tre anni fa. Ecco che cosa domani vogliono sentirsi dire gli imprenditori della Campania. Si parte o no? E se non si parte, qual è il problema? Di quale ufficio? Di quale responsabilità? Dove c'è il punto di blocco? E anche su questo. Lei ha detto che poi ce lo fornirà e noi vorremmo sentirlo in quest'aula. Ma si può capire sui grandi progetti, a che punto sta? Progettazione preliminare, definitiva, soggetto attuatore, aggiudicazione, esecuzione dell'attività. Si può avere un quadro chiaro che non è soltanto una mistica lanciata lì per dire che stiamo facendo tante cose belle che probabilmente non realizzeremo mai per questa regione, per le nostre imprese, per le nostre famiglie, per una giovane generazione che non si rassegna all'idea di voler costruire qui le ragioni del proprio futuro. 20 grandi progetti, di 4-5 ho già detto, 12 dopo circa 6 mesi dalla ricevibilità sono stati oggetto di notifica, 3 sono ancora in fase di ricevibilità, 3 sono ancora in lavorazione e 1 è già stato dichiarato non ricevibile, mi riferisco all'alta velocità a fragola. E la tempistica della Commissione rispetto ai progetti da lei e dalla sua giunta presentati, la tempistica della Commissione rende, a mio parere, avendo conosciuto i tempi di verifica su progetti precedenti, evidentemente apre ancora di più al dubbio che noi portiamo dentro e c'è che dentro quei grandi progetti, dietro quei titoli particolarmente significativi, si nascondano pacchi di carte che non riescono a produrre attività nel nostro territorio. Questa è la nostra preoccupazione, glielo dicemmo 30 mesi fa, glielo ricordiamo nell'unica occasione ufficiale che ci siamo dati. Quindi abbiamo messo lì 2 miliardi e mezzo di euro, bloccando la spesa, quindi evitando almeno nell'immediato un rischio di definanziamento di disimpegno di quelle risorse, ma non facciamo un passo in avanti. Tra l'altro, Presidente Caldoro, la situazione si fa ancora più drammatica per le prossime settimane e noi di questo non ce ne rallegriamo. Perché come abbiamo tenuto a dire più volte sui fondi europei non c'è un tema della battaglia politica tra centro-sinistra e centro-destra. Non c'è chi vince e chi perde su questa battaglia e noi non saremo contenti se dovesse perdere la maggioranza che governa questa amministrazione. La nostra preoccupazione è che perda la Campania e perdano i campani. Il Ministero per la coesione territoriale ci chiede di certificare al 31 dicembre 2012 una spesa pari al 21%, quindi dovremmo crescere di poco più del 6% nei prossimi tre mesi. Significa che noi dovremmo certificare spesa per 400 milioni di euro. Significa che dovremmo certificare spesa quasi per quella che siamo riusciti a certificare e spendere negli ultimi tre anni. Anche qui il 3,8% che è ritornato, io immaginavo che lo lasciasse soltanto alle dichiarazioni di Schifone, di Gennaro Salvatore e mi pare per ultimo di Gianniciello che è intervenuto anche su questa importante vicenda. Ma non c'è un balzo dal 3,8% al 14,2% se non raccontiamo che cos'è quel 3,8% di partenza. Per il piano 2007-2013 la certificazione della spesa effettiva comincia il primo luglio del 2009, perché come lei sa sui fondi strutturali i tempi non sono allineati con il tempo dei programmi, tant'è che quello 2007-2013 dovremmo certificare la spesa al 30 giugno del 2015. E quindi quel 3,8% che lei indica come un dato negativo del 2010 è la spesa certificata nei primi sei mesi di quel piano lì. C'è una piccola differenza, se noi raccontiamo le cose per quello che sono, non soltanto probabilmente stemperiamo una tensione tra di noi che se no inevitabilmente si crea, ma forse facciamo un atto di serietà nei confronti della Campania e io mi preoccupo sempre di quell'imprenditore che domani mattina vuole sapere dove deve piazzare il primo chiodo in Campania e a Napoli, dove da quelle straordinarie performance a cui fa riferimento lei si passerà alla realizzazione di qualche opera che magari può avere una pubblica utilità per Napoli, per le aree interne, per la Campania. Quindi anche qui raccontare sempre le cose con serietà, io non ho la presunzione della verità ma vedo che leggiamo le stesse tabelle e ne diamo interpretazioni diverse, quindi c'è un problema probabilmente di approfondimento e a maggior ragione ritorno a dire questo Consiglio è l'unico luogo dove ci sciogliamo reciprocamente i dubbi e probabilmente dove decidiamo di far fare alla Campania un passo in avanti. Il dato è questo, dal 2000 al 2009 si è proceduto con una capacità di spesa di circa 900 milioni l'anno e dall'insediamento della sua aggiunta si è proceduto con una certificazione della spesa di circa 300 milioni e ne serve ormai il ritorno parecchio abusato ai vincoli del patto di stabilità, all'eredità complicata, alla difficoltà degli uffici, alla complessità della macchina burocratico, ormai dopo 30 mesi io credo che siano venuti meno anche i principi fondamentali sui quali ha impostato una campagna di comunicazione che devo dire ha avuto qualche effetto sulla sua persona ma non ha prodotto effetti importanti per la vita dei campani. Quindi io penso che sia un'occasione importante, un'occasione della verità nel mentre povertà, deindustrializzazione, sfiducia, rassegnazione, disperazione sociale avanzano come avanza e come avvertiamo drammaticamente sulla nostra pelle tutti a volte la rabbia e la delusione per la incapacità della politica di dimostrarsi in questo Paese in particolare in questa regione come una cosa che è utile non a chi la fa ma è utile alla comunità alla quale si rivolge perché cambia i destini di quella comunità, cambia la qualità della loro vita e mette in sicurezza il loro futuro. E allora se la politica vuole recuperare terreno e funzione, vuole tornare ad essere uno strumento utile per riscattare questa comunità regionale nel momento peggiore della sua vita economica e sociale, bisogna fare di più e dire di meno e bisogna realizzare di più e annunciare di meno. E la sfida sui fondi europei è esattamente sfida che parla del senso delle parole che ho detto, che interroga la politica e in particolare il governo regionale sui livelli di produttività e di capacità di costruire fatti che valgano per l'oggi e che possano rimanere per il futuro. Perché la crisi, Presidente Caldoro, è ora e adesso e i grandi progetti, così come sono, rischiano di non essere nessun sollievo a questa crisi che è ora e adesso. Allora abbiamo detto delle cose, diranno gli altri colleghi, io invito poi a tentare di capire domani come usciamo, non sulla stampa, ma come usciamo nei confronti della campagna. Troppe volte abbiamo concluso questi consigli regionali monotematici senza neanche un ordine del giorno come avviso. Io vorrei almeno che chiudessimo questo consiglio regionale con una traccia di lavoro condiviso, con l'appuntamento delle prossime due settimane, con quello che dovrà accompagnare la verifica che il Ministero della Coesione ci chiede al 31 dicembre prossimo. Noi le chiediamo uno sforzo perché si orientino le risorse ancora disponibili verso un grande piano di rigenerazione urbana. C'è un parco progetti, ci sono accordi di reciprocità, ci sono tanti progetti e tante opere di qualità ferme nei cassetti della Regione Campania. Significa riqualificazione dei centri storici, dei centri urbani, infrastrutture primarie, significa economia, significa qualità della vita, significa qualità dei servizi della nostra comunità. Investiamo davvero sul fattore energia, sul risparmio energetico, sulla green economy? Abbiamo detto che questo è un volano nuovo di sviluppo per l'Italia, per il mondo e in particolare per il Mezzogiorno e la Campania. Le ricordo che questa Regione attende ancora un piano energetico ambientale e regionale che sia degno e all'altezza della sfida che lei ha posto in questa aula. Io penso che noi dobbiamo riapprovarci di questa funzione di controllo e di verifica. Il Governo regionale deve aprire di più e meglio le porte a questa attività di controllo e di verifica e deve aprire di più le orecchie anche a una critica che è fatta per fare di più e meglio di quello che noi siamo adesso. Ancora in queste ore, sul sito del Ministero per la coesione, c'è una tabella che la invito a guardare, se non ha avuto modo ancora di vederla, se non gliel'ha segnalata il suo ufficio stampa, la sua struttura, il suo staff, ma che ci rappresenta una condizione della spesa certificata che è ancora peggiore rispetto a quel 14,2 del giugno scorso. Cioè ci dice che la spesa effettivamente certificata è di almeno un punto e mezzo quasi inferiore rispetto alla spesa pagata al 30 giugno 2012. Quindi guardi quante verifiche, quante cose dovremo provare a fare insieme, se ce lo consentirà e se non i rispettivi nei differenti ruoli, questo sicuramente è un impegno che noi abbiamo assunto nei confronti dei cittadini della Campania, per tentare di tirare la Campania fuori dalle secche nella quale si è infilata. Il Ministro Barca partecipando a un convegno importante promosso da lei con le regioni dell'obiettivo convergenza, con le forze imprenditoriali, ha detto con una provocazione il tema e l'obiettivo per la Campania e per il mezzogiorno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi è circoscritto in tre parole, attuare, attuare, attuare. Noi vorremmo aggiungere, dopo l'incontro di stasera, dopo la discussione che mi auguro proficua e utile e una prima tappa per le cose che dovremo ancora discutere successivamente, che alle tre parole attuare, 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 la Campania e il suo Governo si doti di un altro vocabolario fatto di tre parole, spendere, spendere, spendere. Perché se no la Campania dalla morsa della criminalità, dalla morsa della crisi, dalla sofferenza sociale nella quale è finita, non riuscirà a decollarsi. E guardi che non vince il centrosinistra, se accade questo. Perde un'intera comunità regionale e c'è una croce X su un'intera comunità politica che invece penso può dare, può dare in modo significativo un contributo perché le cose possano essere diverse nei prossimi mesi. Grazie.